Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro. Apriamo questa edizione del TG Pomeriggio con l'attualità. Si è spenta nella sua abitazione Sandra Milo, l'attrice, 90 anni, come si legge nella nota di Ansa, era circondata nelle ultime ore dall'affetto dei suoi cari. Una vita tra cinema e televisione, Sandra Milo all'anagrafe salvatrice Elena Greco era nata a Tunisi l'11 marzo del 1933. Una settantina i film all'attivo, si va da Roberto Rossellini ad Antonio Pietrangeli, da Sergio Corbucci a Federico Fellini, da Luigi Zampa a Dino Risi. E proprio di Fellini fu Musa, il regista riminese l'aveva soprannominata Sandrocchia. I due sono stati uniti sia dal punto di vista professionale sia da quello personale, come raccontato in più riprese proprio dalla Milo. In uno dei film più celebri del maestro riminese, 8 e mezzo del 64, Sandra Milo interpreta il personaggio di Carla. Il secondo film è diretto da Federico Fellini, al quale Sandra Milo prende parte, Giulietta degli Spiriti, che esce nel 65 e nel cast, oltre alla Milo, c'è anche la moglie di Federico Fellini, Giulietta Masina. Cambiamo adesso argomento, parliamo di sanità, visto che è operativo da oggi il CAU di Nova Feltria, al primo piano della casa di comunità di via 24 Maggio. La struttura, con medico e infermiere, è aperta tutti i giorni dalle 8 alle 20 e fornisce, spiega l'azienda sanitaria, un servizio aggiuntivo rispetto all'attuale punto di primo intervento, che resta confermato nella sua attuale configurazione con due mezzi di soccorso avanzato. I CAU fanno capo alle cure primarie e si occupano delle urgenze a bassa complessità. Quelli attivi fino ad ora in Romagna sono 9 e l'obiettivo di Ausle è arrivare a 21 su tutto il territorio romagnolo entro il 2025. Si tratta di uno dei pilastri della riforma della sanità voluta dalla regione Emilia Romagna con l'obiettivo di rafforzare il sistema delle cure primarie, limitando gli accessi impropri al pronto soccorso. Con quello di Nova Feltria, i CAU diventano 3 nella provincia di Rimini. La scorsa settimana sono stati 234 gli accessi a quello di Cattolica e 284 a quello di Sant'Arcangelo. Parliamo adesso della ex questura, il gruppo di residenti della zona ex questura di Rimini che davanti alle nostre telecamere sabato hanno lamentato una situazione di degrado insostenibile. Dan un nuovo assist ad Asi, la società che ha acquisito all'asta lo stabile e che ha presentato il progetto Rimini Life per riqualificare l'area. Oggi un nuovo intervento per ribadire la proposta ma tornare anche a denunciare il mancato dialogo con l'amministrazione. Vediamo il servizio. Davanti alle nostre telecamere hanno raccontato il loro disagio, hanno spiegato di aver lanciato una petizione perché sono stanchi del degrado e hanno chiesto che lo stabile dell'ex questura venga abbattuto. La protesta dei residenti della zona di Viogo Bassi a Rimini, stanchi di furti e danneggiamenti quasi quotidiani, ha dato un nuovo assist ad Asi, la società proprietaria dell'immobile. Ogni giorno riceviamo segnalazioni, racconti responsabili del progetto Rimini Life Marco D'Adalto. Abbiamo investito denaro per rafforzare le misure anti-intrusione ma serve una soluzione definitiva, una rigenerazione, dice D'Adalto, che restituisca vitalità al contesto. La società torna a ribadire l'ultima proposta avanzata, rinunciare a 17.600 metri quadri dei 23.700 acquistati all'asta per realizzare solo il supermercato sui 6.000 restanti e cedere gratuitamente al comune le aree rimanenti. D'Adalto lamenta ancora una volta il mancato confronto con l'amministrazione e rimarca che il progetto non prevede nessun hub logistico. A mio avviso, afferma, siamo giunti alla fine della corsa e chiama in causa anche un possibile danno erariale. Rinunciare a quest'ultima proposta, dice, esporrebbe la Giunta ad una forte responsabilità. Se accadesse, non esiteremmo a denunciare il tutto alla Procura Contabile per la valutazione del danno erariale, per il quale, nel caso, dovrebbero rispondere i singoli consiglieri di maggioranza insieme ai dirigenti che hanno appoggiato queste azioni. Rimaniamo in qualche modo in tema. Tre giorni per sognare la città del futuro. E' ciò che hanno vissuto oltre 60 studenti riminesi che, guidati da alcuni facilitatori, si sono incontrati negli spazi dell'ex Cinema Storia di Rimini, invitati dall'Associazione Il Palloncino Rosso e da Fattor Comune. Vediamo. Oltre 60 studenti riminesi impegnati in un hackathon di tre giorni per immaginare le città del futuro, col tema conduttore del riutilizzo degli spazi urbani, che è anche la vocazione dell'Associazione Il Palloncino Rosso, promotrice di REACT insieme a Fattor Comune, società che aiuta le imprese e le organizzazioni nell'innovazione. In tre giorni proveranno a rompere le regole e in maniera del tutto innovativa proveranno a proporre dei progetti di rigenerazione urbana nel nostro territorio. L'unità di intenti per realizzare questa hackathon, questa attività di tre giorni, ci ha trovato subito entusiasti perché le tematiche sono effettivamente proprio quelle del palloncino. Poi ci ospita la storia che già di per sé è oggetto di rigenerazione urbana partecipata da due anni e quindi tutti i puntini un po' si uniscono. Quindi siamo molto molto orgogliosi e contenti di come sta riuscendo fino ad oggi. A giudicare i progetti una giuria di esperti rappresentanti di vari settori. Per i ragazzi l'opportunità di mettersi in gioco anche su aree in abbandono delle loro città, come il Parco del Gelso a Bellaria e Giamarina. Io l'ho pensato perché era un posto molto usato, era un posto molto frequentato e ha chiuso all'improvviso e era pieno di gente, di giovani, di bambini o comunque anche di persone più grandi che lo sfruttavano per passare il tempo e per fare delle attività comunque ricreative. Per ora è molto bene, noi abbiamo delle bellissime idee che stiamo provando a mettere in pratica e organizzare, niente, speriamo venga bene e è anche molto interessante dal punto di vista di esperienziale provare queste cose come se fosse un lavoro vero. Soprattutto un'ottima opportunità per fare team working, conoscere persone nuove e lavorarci assieme. Ci dividiamo i progetti e cerchiamo di andare tutti d'accordo, in modo tale per raggiungere un obiettivo comune. E adesso apriamo la pagina sportiva, come tutti i lunedì piuttosto corpose. Cominciamo con il calcio, il Rimini contro il Pineto trova subito il vantaggio, poi spreca tante occasioni per mettere al sicuro il risultato e si vede anche annullare un gol per un fuorigioco dubbio e alla fine viene raggiunto il pareggio. Vediamo il servizio. Seconda partita casalinga consecutiva per il Rimini dopo il match di Coppa con il Catania. I biancorossi per la ventitresima giornata di campionato ospitano il Pineto, che li precede in classifica di un punto, 27 romagnoli, 28 gli abruzzesi, che all'andata si impose 1-0 e che non vince dal 3 dicembre, tre pareggi e tre sconfitte nelle ultime sei giornate. Mister Troise recupera Ubaldi, resta in infermeria il solo Capanni. Prima del calcio d'inizio osservato un minuto di silenzio il ricordo di Gigi Riva. Al sesto corner di La Mesta, Lepri colpisce di testa, contro traversone di Megalitis e stoccata vincente dallo stesso Lepri, Rimini in vantaggio. Al quattordicesimo contatto in era tra Gigli e Ingrosso, gli ospiti chiedono il rigore, l'arbitro non è dello stesso avviso e in campo si accendono gli animi. Al ventunesimo La Mesta riceve a destra, si accentra, poi serve del carro, il cui tiro è deviato fuori dallo specchio. Al ventisettesimo punizione dall'out di sinistra per il Rimini, La Mesta mette in mezzo, del carro colpisce di testa, la retroguardia ospite si salva. Al trentottesimo cross di Morra, Villa tocca di testa, Gigli incorna in rete da due passi, ma il gol non viene convalidato per un presunto fuorigioco del difensore Biancorosso. Al quarantesimo il colpo di testa di Volpicelli chiama l'intervento non complicato Colombi. Al quarantaduesimo Morra fugge via sinistra, il suo primo tentativo è ribattuto da Tonti, il secondo è alle stelle, con del carro solo un passo dalla porta. Al sesto delle riprese il tiro di Semeraro sul palo vicino trova la risposta in angolo di Tonti. All'ottavo cross di Meghelaitis, incornata di del carro, il portiere dei Gabruzzesi attento. Al tredicesimo Germinario mette in mezzo, Manu impatta di testa a colpo sicuro, Colombi si supera e Chakir fallisce il tap-in. Al ventiquattresimo Semeraro fa passare la palla sotto le gambe di Njambè, Morra non ci crede e sfuma un'altra ghiotto opportunità. I tanti errori sotto porta dei Biancorossi vengono puniti al trentaduesimo dalla punizione di Volpicelli che passa in mezzo alla barriera e si infila nell'angolo basso e il gol dell'1-1. Al quarantunesimo idea di Sala per Ubaldi che mette in mezzo, Morra deposita in rete ma c'è la baglierina dell'assistente alzata, gol non convalidato. Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio. L'1-1 finale non può certo accontentare le Rimini che Sala 28. Il Pineto si porta a 29 e resta avanti. Sabato prossimo i Biancorossi saranno di scena a Perugia. E adesso sentiamo il commento a caldo del tecnico Emanuele Troise. Beh, intanto, perché la partita l'abbiamo vista tutti, è stata comunque ben approcciata. Abbiamo trovato subito il vantaggio che chiaramente una partita del genere ti dà quel vantaggio per chi sapevamo poteva essere molto complicata in termini di contenuti di gioco. Detto questo, poi abbiamo avuto tante situazioni per raddoppiare, siamo stati un po' sciuponi e quando la tieni in vita poi è chiaro che un episodio come quello della punizione piuttosto che quell'occasione che hanno avuto al secondo tempo un po' più clamorosa può determinare un risultato a noi stretto in queste situazioni. Poi ci mettiamo anche un errore madornale dell'assistente sul gol di Gigli, regolarissimo, ma questo non per fare critica perché mi ha parlato di fuorigioco di quando è partito il cross di Morra e a rivederlo nell'immediato Gigli era completamente dietro il suo avversario. Ma andiamo avanti, andiamo avanti perché c'è da andare avanti. Come dicevo ieri ci sono ancora tante partite, ci prendiamo questo punto, muoviamo la classifica, una classifica molto corta, recuperiamo le energie e prepareremo al meglio la partita di Perugia. E ora passiamo al basket. Riviera Banca Rimini a Trieste conduce per 40 minuti e vince di 14 lunghezze, 76 a 90, centrando il quarto successo nelle ultime 5 partite giocate. Vediamo il servizio. Per la ventunesima giornata del campionato del 2 Girono Rosso, la penultima di regular season, Riviera Banca Rimini va a far visita alla pala canestro Trieste, quarta in classifica con 28 punti, il doppio di RBR che ha 14, e reduce dal recupero vinto con Chiusi. I Giuliani devono fare a meno di Ruzziere Reyes. All'andata al Flaminio Trieste si impose nettamente, 62-81. Parte forte RBR, 0-5 dopo i canestri di Nube Marx. Campo grande accorcia da tre. Sarà l'unico canestro di Trieste dalla distanza, su 11 tentativi, nel primo parziale. Marx è scatenato e arriva in doppia cifra già nel primo tempino, chiuso con Rimini che doppi i padroni di casa, 11 a 22. Anche l'avvio della seconda frazione è tutto di marca romagnola, grazie ai canestri di Tomassini, Scarponi e Masciadri, che completano un parziale di 10 a 0, che fa toccare i ragazzi di Dell'Agnello il più 18, 11 a 29. Interrompe il break Brux, assegno con due liberi. Rimini continua con ottime medie dall'arco, assegno Tassinari, Grande e Masciadri. Ma Campo grande, Bossi e Candussi replicano con la stessa moneta. E all'intervallo lungo si va con RBR avanti di 10, 34 a 44. Candussi prova a riavvicinare i suoi dal rientro in campo, 37 a 44. Marimini ritrova un rassicurante più 17 dopo la triple di Johnson, 37 a 54. Marx fa toccare Riviera Banca per la prima volta il più 20 sul 37 a 57. Due triple di fila di Brux rimettono in corsa Trieste, 50 a 62. Il terzo tempino è chiuso dal canestro di Scarponi, 50 a 64. Sono i lunghi Vildera e Candussi, top scora del match con 21 punti, a suonare ancora la carica per i Giuliani, che tornano a meno 10, 57 a 67. Sale in cattedra allora Johnson con 6 punti consecutivi. RBR vola ancora sul più 16, 57 a 73. C'è ancora tempo per una tripla di Marx che chiude a quota 20 e una di grande che chiude a 15 come Johnson. Finisce 76 a 90. Riviera Banca sa la quota 16 in classifica e si prepara ad ospitare Udine. E non può che essere soddisfatto della prova dei suoi, il tecnico RBR, Sandro Dell'Agnello. Sentiamo cosa ha detto. Ovviamente siamo molto soddisfatti perché abbiamo fatto una partita molto solida e credo siamo stati anche molto coriacei. Credo che per gran parte delle 40 minuti abbiamo fatto anche una buona pallacanestro. Noi avevamo un'idea ben precisa prima della partita, cioè togliere loro la caratteristica principale che hanno, cioè il tiro da tre. Ovviamente loro avrebbero tirato da tre perché nelle corde dei loro giocatori l'idea è di non farli tirare mai liberi, che sembra una malità ma non lo è. Siamo riusciti spesso e volentieri, infatti oggi hanno avuto una percentuale bassa da tre che ci ha sicuramente favorito. Mi hanno sofferto un pochino a rimbalzi, ma loro strutturalmente sono più grossi di atletici di noi e quindi c'era poco da fare e secondo me in attacco abbiamo giocato molto bene perché siamo sempre riusciti quasi sempre a non fermare la palla e a trovare uomini onestamente spesso liberi e direi che abbiamo meritato di fronte a un organico veramente impressionante per la Serie 2. C'è la quarta vittoria nelle ultime cinque partite. Qual è il potenziale di questa squadra? Cosa può fare ancora? Viviamolo oggi, guarda, se no ci scottiamo e basta. Noi prima della partita abbiamo detto grande fiducia perché stiamo andando bene ma con grande umiltà. È quello che dobbiamo continuare a fare perché noi stiamo vincendo ma la posizione di classifica rimane non brillantissima. Adesso ci abbiamo un altro scalino impegnativissimo che è utile in casa però giocando così io ho buone sensazioni e ho fiducia. Siamo arrivati in chiusura con il nostro appuntamento con l'informazione. Come sempre grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che l'informazione in televisione torna questa sera alle 19.15 ma potete trovare tutte le news aggiornate su newsrimini.it A questo punto vi auguro una buona giornata. iscriviti al nostro canale. iscriviti al nostro canale.it Grazie a tutti.